La confusione Progetto Acqua Metro Zero Non produrre per non dover riciclare Qualche giorno fa stavo ascoltando un video dove si parlava di acqua per preparare il kefir a base d'acqua invece che il classico kefir a base di latte Chi presentava la ricetta spiegava giustamente che per riattivare il kefir con l'acqua e zucchero bisogna prima di tutto non usare l'acqua di rubinetto perché contiene cloro e ucciderebbe il kefir invece che riattivarlo perché il kefir è vivo, perché ha un insieme di lieviti e batteri mesofili derivati dal latte di capra, di pecora o anche di mucca La presentatrice diceva di usare un'acqua con un basso residuo fisso e che sia alcalina facendo l'esempio dell'acqua sant'anna e della lauretana Ecco io voglio sfermarvi su questo punto Queste due acque in bottiglia non sono alcaline ma hanno un pH tendenzialmente acido Ho ovviamente commentato il video facendo notare proprio questo passaggio e voglio qui ricordare che comunque anche se l'origine di molte acque possono essere alcaline possono perdere questa caratteristica grazie alla luce solare e agli sbalzi di temperatura che alterando il contenitore possono modificare il pH dell'acqua in esso contenuta Per modificare il pH in modo naturale, ovvero come avviene in natura si fa scorrere l'acqua osmotizzata su un letto di sabbie che rilasciano all'acqua alcuni sali minerali non solo importanti per l'essere umano ma anche funzionali affinché l'idrogeno rimanga legato a questi sali alzando così il pH che ricordo essere il peso dell'idrogeno e più idrogeno c'è nell'acqua più il pH sarà alcalino Se un'acqua è oligominerale è quasi certamente un'acqua tendenzialmente acida ma questo non significa che non sia buona Ricordo che la coca cola ha un pH di 2,3 eppure la bevono milioni di persone e se qualcuno muore non è certamente per la sua acidità ma per gli zuccheri e per la caffeina Inoltre ogni vivida gassata, quindi anche le acque gassate, sono acide perché per gasarle si aggiunge anidride carbonica, ovvero CO2 e visto che quella O sta per ossigeno, aumentando l'ossigeno diminuisce in percentuale l'idrogeno e quindi si abbasserà il pH Sono stato chiaro? I nostri osmotizzatori, del più economico al top di gamma hanno tutti la possibilità di erogare due tipi di acque ovvero quella osmotizzata che io definisco extra pura ma che dovrei dire più correttamente oligominerale ovvero con pochi sali oligos dal greco significa appunto pochi poi eroga un'acqua alcalina che dovrei definire leggermente minerale perché facciamo passare l'acqua oligominerale all'interno di un postfiltro che contiene un insieme di sabbie che sciogliendosi nell'acqua la arricchiscono di sodio, magnesio, potassio e calcio tutti i sali che trattengono l'idrogeno e permettono all'acqua di trasformarsi in acqua alcalina c'è ovviamente una riduzione in percentuale di ossigeno in chimica denominata redox che tendenzialmente diventa negativo secondo ovviamente le analisi del laboratorio ma non posso dire ora il suo valore che sarà diverso da caso a caso perché ciò che cambia è l'acqua in ingresso il progetto acqua metro zero nasce con l'intento di eliminare le bottiglie dalla tavola di tutti coloro che vorranno aderire e non è obbligatorio comprare nulla si può semplicemente smettere di comprare inutile acqua in bottiglie di plastica e iniziare a bere l'acqua della propria municipalità ma se non ti piace il gusto non ti senti sicuro nel berla acqua metro zero mette a disposizione due impianti osmosi inverse sia in grado di erogare acqua a temperatura ambiente sia microfiltrata sia osmotica sia alcalina e a richiesta eroga acqua per uso tecnico tipo l'acqua per il ferro d'ostiro se vuoi l'acqua fredda basta mettere una bottiglia della sua preziosa acqua in frigo e se vuoi potrai gasarla col gradatore manuale di cui è corredato inoltre grazie alle sciroppe che si possono trovare in commercio potrai prepararti delle bevande colorate e zuccherate eliminando così anche l'acquisto di quella plastica lì quindi se sei interessato a fare qualcosa di concreto ed intelligente per il nostro presente e per il futuro di tutti e vuoi acquistare un impianto di purificazione acqua mandami un messaggio whatsapp al 348 780 0055 o una mail a davide priore chiocciolamignera.eu oppure semplicemente chiamami ti invierò un pdf informativo e la scheda dei prodotti complessiva dei prezzi se hai capito l'importanza di questo video ti è piaciuto e pensi che possa essere utile anche ai tuoi amici e parenti lo puoi anche condividere sia sulla tua pagina facebook oppure tramite whatsapp ma se stai guardando questo video al pc e lo vuoi ricevere tramite whatsapp me lo puoi richiedere sempre tramite messaggio al 348 780 0055 magari se mi scrivi anche il tuo nome e cosa ne pensi o cosa ti piacerebbe sapere di più sull'acqua se non sono video che ho già fatto e che puoi trovare sul mio canale youtube di cui ti indicherò il link potrei fare un video specifico in risposta perché ciò che può essere utile a uno può essere utile a molti grazie per avermi ascoltato fino a qui ciao e al prossimo video messaggio ciao